Come promesso, dopo le segnalazioni ricevute per lo stato di incuria in cui versano alcune aree verdi del quartiere Merlo, siamo andati a chiedere risposte e chiarimenti all'amministrazione comunale e al presidente del comitato di quartiere. Il parco Giovanni Pol II è in carico ai volontari del quartiere e lo sfaggio è stato fatto. Come avete visto anche dall'immagine, sì, è rimasta un po' di erba per terra, però purtroppo è rimasta un po' alta, è quasi naturale che succeda questo. In riferimento alla vostra segnalazione, corretta segnalazione, assicuriamo che lo sfaggio verrà fatto nei prossimi giorni, giustamente, però anche l'occasione per precisare che quell'area lì è stata acquisita dal comune a fine 2020, dopo ormai dieci anni di atriba di carte bollate, finalmente il comune ha acquisito l'area e finalmente potrà far sì che quell'area venga manutentata proprio dal comune.